Il punto è che il sindaco non ha più la maggioranza e questo mette la città in una situazione sempre più drammatica, anche perché il sindaco sembra non volerlo capire all'atteggiamento di chi gioca a biglie, sghignazza, mentre Roma brucia. E questo per noi padovani è davvero preoccupante, anche se capisco che un città dell'Ese non possa in fin di conto preoccuparsi così tanto delle sorti dei nostri 220.000 concittadini. Questa la reazione del segretario Dem Massimo Bettin dopo il passo falso della maggioranza durante la conferenza dei capigruppo. Nel giorno in cui il dissidente russo annuncia la creazione di un gruppo centro-democratico in consiglio comunale, andando così a togliersi dal gruppo misto cui la capogruppo è Fernanda Saia, Bettin rincara la dose ricordando il ruolo centrale del consiglio comunale nella vita politica della città. Che una maggioranza di forze politiche abbiano ridato dignità al consiglio comunale. Che non è un organo a disposizione del sindaco di Padova, ma è l'organo espressione del voto popolare. Il sindaco vi è sottoposto, non può disporne come crede. Questo a prescindere dalle diverse sensibilità che hanno voluto segnare questo colpo. Non c'entra niente l'inciuccio, sono le dichiarazioni disperate di chi non vuole perdere la poltrona. a disposizione del Saudino. non c'entra niente l' indicazione del concetto di cui non vuole perdere la parThis труд. Grazie.